Aveva capelli lunghi da hippie, anni 70, ostile Angelo Branduardi e giacca e cravatta da manager milanese di Via Manzoni. Aveva cominciato dietro le quinte dei Waffa Day, ma andava a Cernobbio. Non era un politico e le sabbie mobili della politica gli erano indigeste. Dobbiamo semplificare, ripeteva i suoi. Profilo serio, ma aveva scelto un comico per aprire il Parlamento come una scatola di sardine e un attore giullare premio nobella come portabandiera. È una persona come voi e come me, una persona che si è rotta i coglioni di questo mondo e lo vuole cambiare, che è Gianroberto Casaleggio, eccolo qua. Usava la rete come la spada laser degli eroi di Guerra Stellari, i meetup come Legioni, il web come Passpartout, il blog come Vangelo e come miniera d'oro per tutti i click, le regole come fissazione. Uno vale uno, ma poi qualcuno è più uguale degli altri, affondavano nemici e fuoriusciti. I partiti un'idea superata novecentesca come i giornali e la televisione, a cui qualcosa alla fine aveva dovuto concedere. I suoi parlamentari vanno ai talk show e lui stesso si era fatto intervistare da Travaglio e da Lucia Annunziata dopo la malattia. Prima o poi il movimento farà meno di me di Grillo. Speriamo che abbia la maggioranza degli italiani che fanno parte del movimento. Non si può dire facilmente se Casaleggio fosse di destra o di sinistra. Si era candidato in un paesino con una lista civica vicino a Forza Italia, ma appare solo perché non amasse le politiche di apertura sull'immigrazione. Gli piacevano Ugo Lamalfa ed Enrico Berlinguer. Dopo lo sconquasso di Tangentopoli aveva seguito la scalata del Barbaro Bossi. A sentire Bossi al bar all'inizio c'erano quattro persone e uno dei quattro ero io, avvertiva. Poi aveva lavorato con Antonio Di Pietro, a cui aveva costruito il sito. E' stato anche per me un punto di riferimento per la comunicazione. Io a un certo punto ho ritenuto di poter fare da solo e me ne sono pentito. Vegetariano, coltissimo. Dario Fo ha scritto Aveva letto tutto. Gli avevo detto che faceva prima a dirmi cosa non aveva letto. Fissato col fantasy, ma anche con Sciascia e Pasolini. È il capo di una setta, dicevano i suoi detrattori, citando scie chimiche. I bunker in Centro America e la terza guerra mondiale fra tirannie e democrazie che aveva prefigurato per il 2054, anno in cui avrebbe compiuto cent'anni. Gli avevano detto che sarebbe durato sei mesi dopo l'operazione alla testa nel 2014 e nell'immaginario collettivo esiste un casaleggio senza cappello e un casaleggio col cappello a coprire lisce e cicatrice, come quando era apparso sul palco di Roma a San Giovanni per l'ultimo comizio prima delle europee. Sembra Dark Father, dicevano sempre i suoi avversari. L'ho ripreso per i capelli, aveva scherzato Grillo. Ci sono molti motivi per vivere. Sicuramente uno dei motivi per vivere è essere questa sera. L'ultima volta era apparso in pubblico due settimane fa all'inaugurazione di un giardino a Milano intitolato a Franca Rame. Risposte a monosillabi e secco a un giornalista che gli rimproverava la caduta della candidata Bedori, che si dice non gli fosse mai piaciuta. Anche su Milano? Lei fa troppe domande. Dietro a lui c'era il figlio Davide. Buongiorno, allora, poteva piacere oppure no, come capita a tutte le grandi personalità, questo era, questo è stato Gianroberto Casaleggio, scomparso ieri a metà mattina, i funerali ci saranno domani. Adesso, come potete immaginare, si apre da una parte tutto il discorso che riguarda l'eredità, il movimento, che cosa accadrà. Innegabile è che Gianroberto Casaleggio è stato naturalmente il fondatore, insieme a Beppe Grillo, del Movimento 5 Stelle e di lui e del suo movimento molto probabilmente fra molti anni si parlerà, si continuerà a parlare e ad analizzare un fenomeno, un modo di fare, di comunicare e di vedere il mondo e perché no anche la politica che ci ha portato è costretto un po' tutti a avvicinarci a questo movimento, a cercarne di capire le dinamiche e i meccanismi. Non sempre ci siamo riusciti, molto spesso con grandi contrasti, con grandi scontri, con modalità assolutamente anche sconosciute, distanti a volte per noi giornalisti. Questa prima parte del dibattito di Omnibus, della conversazione di questa mattina è dedicata a questo, poi nella seconda parte cambieremo argomento e ci occuperemo di un altro tema molto controverso e dibattuto, ma di tutt'altro genere, le banche. Allora, intanto buongiorno a Franco Bechis, vice lettore di Libro, che poi resterà con noi, do subito il buongiorno anche ai nostri due ospiti che abbiamo in collegamento, da Torino, dalla sede della stampa, Jacopo, Jacoboni, buongiorno, ben trovato Jacopo. Ciao, buongiorno. Uno che il Movimento lo conosce bene, che proprio una settimana fa aveva scritto, tra l'altro insomma con grande poi eco e polemiche, un po' anticipato anche quello che è successo ieri. E poi do il buongiorno anche a Milano, Alberto Castelvecchi, un grande esperto di comunicazione, proprio delle nuove frontiere per quanto riguarda la comunicazione. Buongiorno a voi. Jacopo, io vorrei cominciare da te, ho accennato di questo tuo articolo una settimana fa, che ha creato anche tanta polemica, discussione, attrito, insomma quando tu hai raccontato di un casaleggio arrivato allo stremo che non ce la faceva più e appunto si iniziava a intravedere dietro la figura di Gianroberto Casaleggio, in maniera sempre più definita naturalmente quella del figlio Davide e adesso oggi tu scrivi un articolo, il titolo è questo, il patto tra il figlio Davide e Di Maio, ma la partita è il controllo dei server. Che cosa vuol dire? Sì, diciamo, sulle due cose che tu mi chiedi, partiamo da questa seconda, la partita è il controllo dei server perché il Movimento 5 Stelle nasce con una ambivalenza di fondo, da una parte un movimento fondato sui meetup, quindi su un'idea di partecipazione dal basso, dall'altra una piccola azienda, una SRL milanese che gestisce tutte le pratiche online politiche di questo Movimento, quindi votazioni, certificazioni e così. Loro hanno sempre detto che le due cose, loro alla casaleggio, che le due cose erano separate e che non c'era nessun legame tra le attività diciamo economiche dell'azienda e quelle politiche del Movimento. In realtà, a mio giudizio, le cose si sono sempre di più sovrapposte e hanno configurato una situazione da micropartito azienda per certi aspetti, anche se con modalità del tutto diverse rispetto a quelle che sono successe, pensate a Mediaset Forza Italia perché diciamo Mediaset utilizzava altri canali mediatici, la televisione in particolar modo, ma insomma qui in un altro ambiente mediatico si è riproposta una sovrapposizione di partito azienda analoga. Quindi perché diciamo io dico che il controllo dei server adesso è la chiave della partita? Perché è una cosa abbastanza oggettiva, cioè casaleggio aveva affidato già in vita l'azienda al figlio che ormai da parecchio tempo prendeva tutte le decisioni, gestiva tutte le riunioni, a lui venivano smistate tutte le cose aziendali, ma anche le riunioni politiche, cioè quando salivano parlamentari importanti alla casaleggio sostanzialmente avevano a che fare con Davide, viste le condizioni di salute di Gioan Roberto. Una cosa importante da capire è che secondo me oggi tutti stanno raccontando casaleggio come un uomo che aveva delle visioni, delle intuizioni sul web, in realtà questo è vero, ma quello che sfugge è che secondo me politicamente già Roberto casaleggio aveva perso la sua battaglia dentro il Movimento 5 Stelle, giusto o sbagliata che fossero per casaleggio il Movimento era le sue regole e le sue regole nella sua idea erano un atteggiamento francescano sui soldi, si può vivere con 2.500 Euro, poi li avevano alzati a 3.000 al mese, oggi invece tutti i parlamentari ricevano tra indennità e rimborsi 12-13 mila Euro al mese. Casaleggio diceva non andrete mai in TV perché la TV è morta e noi useremo completamente un'altra modalità di comunicazione, il paradosso è che adesso l'obiettivo quasi principale di moltissimi del gruppetto leader del Movimento 5 Stelle è occupare la TV dalla mattina alla sera e anche su questo questa regola fondante era stata sconfitta, insomma in sostanza il visionario era stato sconfitto dalla politica romana che ha inglobato e assimilato quelli che lui chiamava i nostri ragazzi, considerandoli un'emanazione. L'errore politico che ha fatto Casaleggio è pensare che lui li aveva creati e lui li poteva smontare in qualsiasi momento, cioè che fossero fungibili, uno vale uno, ma all'interno però della logica di una gestione di ultima istanza che sarebbe toccata a lui comunque. Invece in realtà, come la mia impressione, le mie informazioni, poi valutate voi, ognuno ha gli elementi per trarre una valutazione con le sue conoscenze, è che Casaleggio fosse stato già scalato in vita e che il direttorio lo avesse parzialmente subito, però ha avuto l'intelligenza e l'intuito di affidare in questi due anni un ruolo sempre crescente, credetemi, sempre crescente al figlio, che è un personaggio da quello che mi raccontano le mie fonti, io non li conosco personalmente, ma molto diverso dal padre. Non è appassionato di politica come lo era il padre, che pure però è rimasto fino in fondo un impolitico, cioè una persona incapace di gestire la mediazione e anche quella parte nobile di relazionalità che comporta la politica, però proprio questa assenza rende il figlio più freddo, meno emotivo, per certi aspetti non so se dire meno manipolabile, ma insomma un osso per certi versi più duro per Di Maio di quanto sicuramente non lo fosse il padre, specialmente nella fase finale della sua parabola. Quindi ieri i due si sono visti, è molto curiosa la cosa secondo me che raccontiamo sulla stampa, cioè Di Maio è arrivato alle tre e mezzo in ospedale a rendere omaggio alla salma di Gianroberto Casaleggio, ma è arrivato alle tre meno un quarto alla Casaleggio, dove quindi è stata una mezz'oretta con Davide, naturalmente per fargli le condoglianze, per fargli sentire la vicinanza, ma la cosa curiosa è che era completamente da solo, non c'erano altre persone, non c'era nessuno del direttorio, cioè in sostanza è chiarissimo che la questione si gioca adesso in un rapporto principale tra loro due, in cui secondo me in questo momento non conviene a nessuno aprire una guerra per la successione, ma penso che però le ragioni oggettive di possibile attrito siano appunto oggettive, siano nei fatti, a meno che il movimento non rinuncia alla retorica dell'elezione online, insomma tutto quello che sapete, ecco tutto questo è gestito adesso da Davide Casaleggio. Bechis, è così adesso, a parte la questione naturalmente dell'eredità, perché in qualche modo è ovvio che il movimento dovrà andare avanti, andrà avanti e vedremo come, ma davvero come raccontava Iacoboni si è persa mano a mano questo sogno, questa visione che aveva Casaleggio e che aveva immaginato e per il suo movimento, perché alla fine la politica romana in qualche modo, anche quella parola politica, i 5 Stelle fanno fatica a volerla ascoltare e sentire, però in qualche modo ha modificato il loro percorso. Sì, anche se credo che siano decisioni prese anche da Casaleggio, soprattutto da Casaleggio, peraltro come dire la fidanzata di Di Maio è una delle persone che era più legata a quel mondo, veniva dal gruppo di Casaleggio, non è strano che sia quello che avesse rapporti personali più diretti con loro. Io non conosco molto delle dinamiche interne, ho un'idea di cosa siano le cose di cui parliamo, nel senso che spesso il ruolo della Casaleggio e Associati è stato ingigantito rispetto al peso che ha quella società, quella è una società che ha fatto un milione e mezzo di euro di fatturato, era più piccola della società di Gemelli, che era un personaggio di cui abbia conosciuto qualcosa soltanto adesso, perché c'erano le intercettazioni, questo gran monstro che faceva, chissà quale, no, era una società piccolissima, lui si occupava peraltro della sua società che non faceva soltanto l'assistenza al Movimento 5 Stelle, credo, siccome diciamo avevamo amici comuni, una persona che ha lavorato con lui e che ha lavorato tanto con me, quindi diciamo so anche cose degli ultimi periodi, Casaleggio non aveva nessuna idea di essere alla fine, con questa persona mio amico si sono sentiti la scorsa settimana e hanno preso un appuntamento per martedì prossimo perché a lui interessava un software per la sua società, quindi aveva bisogno di, l'altro fa quel mestiere e niente, si sono presi, si sono parlati a lungo, l'unica cosa che gli continuava a dire era che lui ce la doveva fare perché aveva un secondo figlio, non quello di cui stiamo parlando, che era molto piccolo e che non poteva restare senza padre e quindi era convinto di farcela, diciamo sono, descrivono anche diciamo la persona che era difficile, era una persona molto introversa, molto timida, ma non credo, io posso dire soltanto quello che da giornalista ho vissuto, quando quelli che sono stati eletti in Parlamento sono arrivati qui, erano un gruppo di pulcini bagnati che non sapevano nemmeno da che parte girarsi, onestamente in questi due anni, hanno fatto un po' una cosa che vidi fare all'inizio dalla Lega, cioè si sono messi a studiare, hanno imparato le tecniche, anche le cose, sia le materie di cui devono occuparsi, sia le tecniche parlamentarie, obiettivamente oggi spesso sono più preparati di parlamentari che militano da anni in partiti e che non hanno mai imparato niente delle cose di cui si occupano, perché alla fin fine fanno sempre lo stesso teatrino di politiche, invece quello che sta sull'agricoltura ha imparato i temi dell'agricoltura perché li ha studiati. Questo secondo me rende un po' più forte di quel che pensiamo quella classe di eletti che ha avuto tutte le sue vicissitudini e che nel gruppo che è poi restato si è solidificata e un gruppo anche di amici, perché tra Di Battista, Di Maio c'è un rapporto personale che raramente si vede negli altri partiti, non mi sembra, una volta che ci sono le polemiche di ciascuno che se ne sono andate, io credo che al di là di quello innanzitutto hanno una rappresentanza popolare che non dipende soltanto dalle qualità loro, dalla casaleggio associati, ma dal fatto che deludono le altre forze politiche, la loro principale forza è essenzialmente quella. Tutti avremmo scommesso che non avrebbero tenuta quella rappresentanza popolare, invece l'hanno tenuta, secondo me parte per merito loro, molto per demerito delle altre forze politiche che man mano, oltretutto si sono liquefatte come nel caso del centro-destra, semi scomparse, hanno deluso anche quelle del centro-sinistra che erano partite su grandi aspettative, che sono state un po' deluse diciamo man mano che si andava avanti e quindi sono rimasti loro e secondo me rimangono. Castelvecchi, Casaleggio creando questo movimento lo ha fatto volutamente attraverso uno strumento che è quello della rete, naturalmente con Beppe Grillo che da anni, ancora prima che nascesse il Movimento 5 Stelle parlava nei suoi spettacoli della rete e ci ha costretti a comunicare con loro, a conoscerli, a sperimentarli e ad accettarli attraverso la rete, con le candidature online, con le selezioni online, con tutto quello che necessariamente doveva sempre passare per la rete e per l'online. Qui sì, introducendo un elemento nuovo nel panorama politico. Sì, un elemento nuovo che poi come stava sottolineando un attimo fa Giacoboni della stampa è stato largamente corretto, oggi vediamo appunto la Virginia Raggi che viene accreditata come possibile sindaco di Roma, si dice anche perché è telegenica, anche perché buca lo schermo, cioè in qualche modo dello schermo televisivo i giovani 5 Stelle sembrano non poter fare a meno. Resta il fatto che pur essendo una società molto piccola come è stato sottolineato, questa casa legge associati ha effettivamente rappresentato un elemento di trasformazione, non so quanto, ecco, anche un po' inquietante del meccanismo di funzionamento democratico. Cioè, se noi tutti siamo inquietati del fatto che con la riforma elettorale praticamente le liste elettorali vengono composte dalle segreterie di partito, beh qui siamo al fatto che le liste elettorali vengono composte sulla base di talvolta delle primarie, delle equilinarie, delle referendarie, chiamatele come volete chiamare, il cui meccanismo però di controllo resta opaco. Cioè, casa legge è stato sicuramente un genio rivoluzionario e visionario che ha affermato il potere di Internet quasi fideisticamente, cioè anche laddove nei numeri per esempio si vedevano candidati che hanno 400 voti, quindi piccoli numeri rispetto ai numeri di massa a cui ci abitua Internet. Però è anche vero che qualche cosa rimane molto opaco nella gestione appunto del, per esempio, tutte le volte che ci sono dei voti che vengono espressi sulla piattaforma online di Casaleggio, gli analisti fanno notare che manca una società terza di certificazione. Insomma, ci sono un po' luci ombre in questo uso di Internet, ma d'altro canto è Internet che è uno strumento ambiguo perché io ricordo anche negli anni 90 quando venne annunciato che Internet avrebbe portato la grande liberazione nei meccanismi di funzionamento della politica, c'era anche chi diceva, attenzione, che come tutti gli strumenti, come tutti i media, bisogna vedere come lo si usa. Resta un po' diciamo questo sottofondo di opacità e il fatto che i meccanismi di controllo del consenso, dei processi, delle espulsioni, delle polemiche, dei post gestiti dalla Casaleggio Associati non è un meccanismo trasparente. Non credo che le cose da questo punto di vista miglioreranno molto con il figlio Davide. Davide e Gianroberto sono molto molto diversi, ma l'introversione e il poco contatto con i media generalisti sono una caratteristica che è come una padre e figlio. Un po' più di trasparenza gioverebbe. Poi da un punto di vista proprio di Internet e del funzionamento del movimento politico, ecco credo che questa sia in questo momento una prova ad opera un po' un parolone di quelli che usano i professori di adultità, cioè di età adulta proprio per i Di Maio, Di Battista e Fico, cioè per il gruppo, anche la Raggi che è la candidata a sindaco di Roma eccetera eccetera, Marcello Petitti che è stato il capogruppo consigliare 5 Stelle a Roma. Sono tutte persone che in qualche modo vengono da un'esperienza non politica e adesso hanno conquistato un grande seguito popolare. Io ho l'impressione, su questo sono d'accordo assolutamente con il vice direttore di Libero che l'ha detto molto bene, che il seguito popolare del 5 Stelle sia più denso sia più, cioè tutte le volte che c'è un nuovo fenomeno politico, fu così per Berlusconi, è stato così per Beppe Grillo, è stato così per la Lega, di fatto questi grandi movimenti politici, quando ci sono molti eletti in Parlamento è perché si intercetta un desiderio reale che c'è nel Paese. Nel caso di Berlusconi erano i cosiddetti Berluschini, lo ricordiamo tutti, c'è un ceto economico che voleva rappresentanza politica. Nel caso della Lega, lo abbiamo visto, la Lega aveva una base popolare immensa, ha una base popolare forte. La mia impressione è che noi, è chiaro che guardiamo molto al potere di Cassaleggio e della Cassaleggio Associati oggi, però non sottovalutiamo il seguito popolare, cioè che in effetti Grillo e Grillini con il loro atteggiamento un po' da secchioni, come dire, io soprattutto mi riferisco ai giovani, cioè questi giovani secchioni che vanno in Parlamento e si mettono a studiare, piacciono molto proprio perché sono volti nuovi. E poi anche perché trovano le cose, insomma, diciamo, è il loro lavoro di spulciare e andare a trovare, lo abbiamo visto e verificato negli ultimi mesi. Ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo. Noi abbiamo poche regole, poche regole, nell'ambito del movimento. Chietano il movimento, sai che queste regole devono essere osservate. È un po' come se uno viene da cattolico e fa la comunione e la confessione, sai che prima di fare la comunione fa la confessione. Poi non osserva la roba che rimane all'interno della… oppure un ottobobinista che ha preso la patente e vede che il semaforo rosso passa lo stesso. Quindi se queste regole non vengono, non è la discussione sul singolo tema politico, quello lì è giusto che ci sia, uno può dire hai sbagliato, noi la pensiamo diversamente, è già avvenuto due volte che io e Grillo siamo stati smentiti clamorosamente su una decisione attraverso le votazioni online e certo noi siamo rimasti a nostra opinione, non è che la via cambiata perché gli altri erano in maggioranza, però la maggioranza ha deciso. Se si parla su contenuto non c'è nessun problema, si parla sulle regole, il problema c'è. Se uno entra in un club inglese, in questo club è obbligato ad andare con giacca e cravatta e quel giorno lì va senza la cravatta, viene accompagnato alla porta. Allora questo era un pezzettino di un'intervista che Travaglio fece appunto a Casaleggio. Jacopo, il punto sulle regole, queste regole che poi quasi quotidianamente sono state un tratto distintivo, lo sono tuttora del Movimento 5 Stelle, regole fissate, regole però poi a volte rimesse in discussione, come raccontava Casaleggio, è capitato che durante appunto le votazioni, mentre si chiedeva il consenso del popolo, dei militanti online, loro abbiano avuto delle diverse opinioni rispetto a Grillo Casaleggio. Le regole è stato ed è e continuerà chissà ad essere un elemento così stringente nel Movimento 5 Stelle, il tratto distintivo per eccellenza. Ma appunto questo mi fa piacere Gaia che avete fatto vedere queste frasi, queste riflessioni di Casaleggio perché le regole fondamentali del Movimento 5 Stelle dal punto di vista appunto non del contenuto, ma delle regole, del metodo di lavoro erano tre. Uno, i soldi e come ho detto. Due, il doppio mandato, tre, i media e la TV, non si va assolutamente in TV. Due di queste regole sono state già clamorosamente infrante, quindi se Casaleggio avesse potuto applicare le linee guida che esponeva lì in quell'intervista a Travaglio dovrebbe constatare lo scacco di questa sua cosa. La terza regola, quella sul doppio mandato, cioè il fatto che gli eletti del Movimento 5 Stelle a qualunque livello, da quelli territoriali a quelli politici, possono fare due mandati e devono andare a casa, questa è una regola che resiste. A me risulta che sia stata sottoposta a una certa torsione anche interpretativa perché inizialmente si pensava che il doppio mandato fosse da intendersi, anche se magari una legislatura fosse durata due anni e l'altra tre si andava comunque a casa, invece adesso si sta affermando un'interpretazione prevalente che il doppio mandato coincide con dieci anni di attività politica. Fatto sta che comunque il grande punto politico è stato l'attacco a queste regole. Da questo punto di vista io penso che paradossalmente un Movimento 5 Stelle senza casaleggio sia molto più spendibile dal punto di vista romano e dell'assimilazione e dall'omologazione. Anzi io ho l'impressione che il sistema politico abbia demonizzato casaleggio proprio per assimilare e per inglobare dentro di sé e quindi smorzare qualunque velleità di reale cambiamento delle sue creature. Questa è la mia lettura. Quindi io penso che proprio l'aver rinunciato alle regole li rende in tutto competitivi con il resto della classe politica, magari un po' più nuovi, un po' più giovani e così. Però questa è una finzione, è una bugia che bisogna dire forte, bisogna svelare perché attenzione, è su questa che si fonda la presunta superiorità morale, diciamo, casaleggio avrebbe detto berlingueriana del Movimento 5 Stelle. Per me non c'è nessun problema nel prendersi 13.000 euro al mese tra stipendio e rimborsi, così come non c'è assolutamente nessun problema a essere tantissimo in tv e anzi direi potrei raccontare delle storie sull'accecamento da visibilità televisiva che ha preso i giovani francescani del Movimento 5 Stelle. Ve ne racconto solo una perché è troppo bella ed è una polemica pubblica, diciamo, assolutamente non smentibile. Il capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che curiosamente è un ex del Grande Fratello, quindi è un personaggio eminentemente televisivo, disse una volta ad un allora capogruppo tu non vai in televisione perché sei brutto e durante un'assemblea infuocata del Movimento 5 Stelle all'indomani delle elezioni europee, quelle che i media scrissero perse, in realtà il Movimento 5 Stelle secondo me era andato benissimo col 21%, ci fu però un momento di serio sbandamento in cui durante un'assemblea proprio la Silvia Virgulti che Bekis ricordava annotò e su tutte le agenzie di allora, non smentito, abbiamo perso per colpa del cappellino di Casaleggio in tv da Lucia Annunziata, ecco quindi facendo un'allusione anche piuttosto pesante alla malattia e alla, come dire, non presentabilità mediatica del cofondatore, di quello che oggi loro piangono come visionario. Quindi ecco secondo me se il giornalismo libero non mette le mani dentro queste contraddizioni non fa un buon servizio, cioè io penso che lo standard che io credo che, diciamo e chiedo che venga applicato a Renzi, secondo me va applicato anche al Movimento 5 Stelle nel momento in cui diventa un movimento sistemico. Bekis, le regole, quelle regole che poi ci hanno portato anche fino a ieri a vedere un altro capitolo, quello delle espulsioni, perché per stare dentro le regole del movimento di volta in volta appunto si decidono espulsioni oppure no, ieri c'è stato un ricorso e ieri insomma alcune espulsioni, il ricorso è stato vinto da chi era stato espulso, ma insomma si ha il caso quarto per esempio, anche lì il rispettare delle regole che poi è vero magari di volta in volta un pochino forse si sono riadattate secondo le interpretazioni, però è un punto di forza di questo movimento. Di Battista che probabilmente era il candidato più voluto e più forte per Roma non ha potuto candidarsi e non ha voluto perché lo statuto dice che non si può. Sì, infatti hanno rispettato questa regola. Qualche regola evidentemente riconosciuta c'è, altrimenti un giudice non può riammettere in una competizione privata se non esiste come dire un canovaccio di regole degli espulsi da quella competizione come è avvenuto ieri. Quindi evidentemente qualche punto di riferimento se un giudice è in grado di giudicare, altrimenti deve astenersi da una vicenda del genere. Le regole sono state sempre un po' confuse, nel senso che mi ricordo anni fa feci un'inchiesta e notai la prima cosa, che non è vero che il Movimento 5 Stelle non prendeva dei fondi pubblici perché i rimborsi ai consiglieri regionali, ai gruppi regionali erano fondi pubblici e di fatto dei finanziamenti a una forza politica, che anzi oggi quel tipo di fondi sono la maggior parte dei finanziamenti esistenti pubblici a forze politiche, cioè i fondi ai gruppi parlamentari di Camera, Senato. Lo feci, era in Emilia-Romagna. Notai una certa ingenuità, nel senso che è vero, loro ricontavano nel dettaglio le spese. Non avrei mai trovato in un partito politico la nota cena con rappresentante dei servizi segreti, perché nessuno avrebbe messo fuori una fattura del genere al mondo. L'aveva fatto il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna. Quando feci quell'articolo raccontando le loro spese mi hanno linciato proprio. È finita che hanno espulso entrambi i due consiglieri che c'erano anni dopo, ma insomma allora ero nel mirino del Movimento 5 Stelle per averlo detto. Nello stesso modo vedo che oggi hanno sulla parte economica un po' di confusione. Non è vero che prendono 13 mila euro, come dice lui. Il problema è che utilizzano i fondi di rimborsi spese per giustificare una cosa per cui non sono nati, cioè per pagare l'attività politica. Scusami, è importante perché vengo molto, scusami, siccome vengo attaccato su questa cosa, non ho detto che prendono, che si mettono in tasca. Loro ricevono tra l'indennità di cui restituiscono 1700 euro e i rimborsi. In una media ricevono 10 mila euro di rimborsi con giustificativi vaghissimi e generici, tipo che ne so, 5 mila euro per viaggi e collaboratori, cose così. Quindi da questo punto di vista, quello che percepiscono è assolutamente in linea con tutti gli altri parlamentari, dico semplicemente questo. Non che prendono, lì dentro ci sarà anche una parte di effettive stesse. Jacopo, intendiamoci, nessun parlamentare può rifiutare di prenderli perché le regole sono quelle, quindi a chiunque va l'indennità integrale. Poi, diciamo, è una sua decisione, nel Dometà in beneficenza è una decisione. No, no, io sto parlando, no, scusami Franco, sto parlando della somma tra indennità e rimborsi. Sì, 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 tutti i parlamentari prendono la stessa cifra, non è che uno può prenderne un po' meno. Tutti i parlamentari prendono la stessa cifra, la dico in soldoni, sono 5 mila euro circa di indennità parlamentare, 3 mila e 500 euro di diaria per il rimborso di spese di soggiorno a Roma, che è il caso unico nei parlamenti internazionali, viene assegnato anche a chi era residente a Roma prima dell'elezione e quindi non ha nessuna spesa maggiore per stare a Roma, 1.100 euro circa al mese di rimborso per taxi, diciamo, mezzi di trasporto per raggiungere l'aeroporto più vicino con cui andare a Roma, anche quei 1.100 euro vengono dati ai romani e poi circa 4.300, 4.600 a seconda se sei Camera o Senato di rimborsi per le spese di segreteria, portaborse, eccetera. Tutti li prendono quei soldi. Poi il Movimento 5 Stelle ha come regola che parte dell'indennità viene data a un fondo salva imprese. Il problema sui rimborsi è verissimo, il problema è che si era detto che noi prenderemo 2.500 euro al mese. Li giustificano con una cosa che secondo me è impropria. Quelli sono fondi che dovrebbero rimborsare le spese del parlamentare, i suoi collaboratori lì. Se uno di loro va a fare un comizio per sostenere il candidato del 5 Stelle a Napoli, lo utilizza i rimborsi, spese date al parlamentare per pagarsi quel comizio. Cioè un'attività che altri partiti pagano a carico del partito politico. Sul Movimento 5 Stelle non abbiamo particolare trasparenza sull'attività economica del Movimento 5 Stelle. Non abbiamo un bilancio certificato. Loro dicono che non sono dovuti a farlo perché non prendono dei rimborsi pubblici. Ho appena finito di dire che in realtà li prendono perché prendono i fondi di rimborsi ai gruppi sia in Parlamento nazionale che a quelli regionali. Secondo me quella è una lacuna grave non avere un bilancio certificato per far capire anche ai loro militanti qual è il flusso politico. Ci saranno magari dei finanziamenti, magari microfinanziamenti dei sostenitori, ma non c'è un rendiconto complessivo di questo. Diciamo, questo è una cosa sicuramente da migliorare. Per il resto le regole erano anche un po' prudenziali. Cioè quello che abbiamo appena sentito dire su Casaleggio, il reato di immigrazione clandestina. Grillo e Casaleggio erano contrari, fanno la votazione in rete, avessero dominato come dei mostri la votazione in rete, quella votazione in rete avrebbe dato ragione a loro due e invece gli ha dato torto. Quindi questa invasività dell'utilizzo della rete non è così, è dimostrato dai fatti. Poi hanno fatto lo stesso come volevano loro perché dopo un po' di tempo poi la linea sull'immigrazione è diventata la linea di tutto il Movimento 5 Stelle perché in quel momento era popolare quello, quindi diciamo quella era una cosa fatta come fanno i politici tradizionali. Però insomma diciamo questa grande... Questa avviene anche per le primarie del TV, ogni tanto si cambiano le regole. Quanto invece alla questione della TV era una prassi, non era una regola scritta nei dieci comandamenti, era una prassi anche giustificata dal fatto... In questo periodo in televisione in realtà ci andavano molto di più perché noi prendevamo tutti i comizi di Grillo che era in tour per l'Italia e eravamo costretti a usare quelli. Il loro tema non era sbagliato, tutti questi ragazzi come raccontavo sono arrivati che erano pulcini bagnati, non erano in grado di affrontare perché non erano competenti sulle cose. Quando sono diventati competenti l'hanno potuto fare, ma comunque sono sempre un po' restì andare nel talk show dove c'è il dibattito con l'avversario politico e anche oggi vanno in finestre dove ci sono solo loro semmai qualche domanda di un giornalista, è difficile che facciano... Però Becchis diciamo che questo lo abbiamo visto come meccanismo e modalità anche per i partiti cosiddetti normali e anche per personaggi di altro livello che a volte ti chiedono appunto chi c'è, chi non c'è, chi possa... Castelvecchi, adesso resta indubbiamente ottorna Grillo che aveva deciso di fare quel passo di lato, ieri ha detto io resto il garante, poi vedremo appunto quanta sarà l'influenza di Grillo o se in toto questi giovani, il nuovo corso, il direttorio nella persona di Di Maio prenderà totalmente in mano. E però insomma chiedo anche a lei che appunto è un altro un po' visionario, è uno che ha visto alcune cose per tempo e con anticipo, davvero resterà qualcosa di questa visione, di questo mondo di Gaia che noi tutti siamo andati a vedere, era il mondo ideale descritto da Casaleggio e poi però lo stesso Casaleggio noi lo abbiamo visto andare a Cernobbio, una cosa che non ti aspetti e lui ha detto poche parole ai giornalisti, ha detto sono qui per spiegare la nostra filosofia ed è stata un momento, una giornata che c'ha un po' così. Ma dunque sull'andata di Casaleggio a Cernobbio Casaleggio era abbastanza spiazzato appunto, era un personaggio spiazzante, il messaggio latente era questo, siccome Casaleggio è stato più volte accusato di frequentare i poteri forti, si è detto che dietro Casaleggio c'era questa Infinity, questa super lobby costituita dal finanziere spagnolo Mario Conde, dal segretario generale della Gran Loggia d'Inghilterra Lord Northampton, dall'ex maestro, l'ex gran maestro della massoneria italiana Giuliano Di Bernardo, insomma spesso questi tipi di poteri forti venivano visti o intravisti dietro la Casaleggio Asciusati, in qualche modo Casaleggio va a Cernobbio dicendo io non frequento, il messaggio è io non sono uno che frequenta i poteri forti, io sono un potere forte, il potere forte sono io, sono un nuovo messaggio e in quanto tale mi rapporto agli altri poteri forti in maniera assolutamente protagonistica, quindi è abbastanza interessante questo atteggiamento. Ecco quello che fino adesso si è discusso delle pratiche del Movimento 5 Stelle e in effetti la domanda che lei mi fa è molto interessante sul piano dei valori, cioè richiamerei una parola che Casaleggio veniva dalla Olivetti di Adriano Olivetti e non per niente Casaleggio definiva il Movimento 5 Stelle una comunità, ecco la parola comunità, com'è che si definisce una comunità? Si definisce per un insieme di pratiche e di valori condivisi, fino adesso Becchis e Iacoboni hanno segnalato appunto le pratiche che coincidono, spesso sono un po' discostanti dai valori enunciati, l'hanno detto molto bene però ogni tanto sono aggiustabili le pratiche, però Iacoboni soprattutto è stato spesso accusato di, la stampa deve fare il suo mestiere, deve segnalare quando si enunciano dei principi e poi però non si fa quello che è, la stampa lo segnala dei Forza Italia come lo segnala del PD, come è giusto che lo si segnali ai 5 Stelle. Quello che mi interessa a me sono i valori, cioè quali sono i valori, qual è l'ideologia, qual è il pensiero che sta dietro il Movimento 5 Stelle. Qui appunto siccome se Atene piange Sparta non ride, anche gli altri partiti non sono messi meglio, però diciamolo sinceramente il pensiero politico del Movimento 5 Stelle a me ogni tanto ha fatto venire in mente un po' quella canzone di Giovanotti dove si parla di una grande chiesa che va da Madre Maria Teresa di Calcutta a Ceghevara passando per San Patrignano, non so se ricordate questa frase di Giovanotti che venne vista con una specie di neocolonquismo populista. Ecco, obiettivamente quali sono i valori intorno a cui si ritroveranno i 5 Stelle, di là dalle pratiche che sono quelle poi del mondo politico, con la scomparsa di Casaleggio? Basterà lo spirito tribunizio di Beppe Grillo a tenere insieme le tante anime perché c'è un'anima populista giustizialista, Forcaiola, dentro il Movimento 5 Stelle l'abbiamo visto, c'è un'anima internettiana molto forte, può darsi che Davide Casaleggio sarà molto bravo a gestire quelle componenti che noi definiamo viral, cioè proprio la capacità di fare dibattiti, di utilizzare i social, il post su Facebook, i gruppi di interesse, la capacità di far passare dei messaggi in maniera istantanea. Poi c'è un'anima decisamente sinistrorza appunto, di un'anima decisamente aperta all'immigrazione contro Casaleggio e Grillo stesso, è un po' un fritto misto diciamo di valori, ripeto gli altri partiti non sono messi meglio ma se non altro sono più marpioni, sono più bravi a mascherare la propria ambiguità ideologica. Il Movimento 5 Stelle appare con un grande magma che intercetta un grande desiderio popolare di protagonismo, effettivamente ha avuto successo in una cosa, cioè nel portare uomini nuovi e volti nuovi nella vita istituzionale e questo può darsi anche che sia un bene, però obiettivamente tutti ci chiediamo le pratiche, le stiamo vedendo, sono un po' traballanti, ma quali sono i valori intorno a cui si troveranno. Allora ci salutiamo per questa parte guardandoci un'ultima clip dei due fondatori del Movimento 5 Stelle, Casaleggio e Beppe Grillo, insieme sul palco, un palco importante, quello di Roma e di Piazza San Giovanni per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni del 2013. Poi andiamo in pubblicità, intanto io ringrazio Castelvecchi e Jacoboni, Bechis rimane con noi. Vediamo. Io parlo poco, quindi stasera è una delle pochissime volte in cui mi vedrete parlare. Io mi ricordo un famoso slogan del 1968 che diceva la fantasia al potere. Ecco, noi abbiamo bisogno di fantasia e creatività per uscire da questa situazione che è molto peggiore di quella che forse voi pensate. Però oltre alla fantasia e alla creatività abbiamo bisogno di due cose in più. Una è la trasparenza e insieme alla trasparenza l'onestà e insieme all'onestà la competenza. Con la trasparenza, la competenza e l'onestà cambieremo l'Italia. Senza questo non cambieremo nulla. Poi volevo dirvi un'altra cosa. Io e Beppe in questi 4-5 anni più volte abbiamo alternativamente però deciso di buttare la spugna. Però quando voleva buttare la spugna a lui non la volevo buttare io e viceversa. E quindi siamo arrivati fino a qui, fino a stasera. Grazie a tutti. Allora eccoci qua. Un veloce cambio e anche di argomento perché vi parliamo in questa seconda parte di banche di quello che sta accadendo con Atlante, il fondo salvabanche, insomma questo fondo che ieri ha avuto una giornata dalle doppie facce, in chiaro scuro perché insomma in apertura è stato accolto con favore e poi invece in chiusura le borse hanno segnato un colpo abbastanza duro ai titoli bancari. E insomma che cos'è questo fondo, a che cosa serve e soprattutto se è strutturato e se è solido. Però dobbiamo parlare, lo faremo tra un attimo anche delle famose pensioni di reversibilità perché oggi proprio il giornale di Franco Becchis torna su un punto che ha fatto molto molto discutere un paio di mesi fa ed ha acceso il dibattito come sempre sulle pensioni. Intanto do il buongiorno, ci ha raggiunto Filippo Taddei, responsabile economico del Partito Democratico. Buongiorno. In collegamento invece abbiamo da Milano Claudio Borghi, responsabile anche lui economico per la Lega Nord, si occupa di questo, è rimasto ovviamente Franco Becchis. Allora vi faccio vedere subito il titolo di Libero che è questo oggi, anche un po' insomma diverso rispetto a tutti gli altri giornali. Il governo ci riprova pensioni di reversibilità, ecco quelle che rischiano. In un documento ufficiale l'intenzione di trasformare l'assegno alle redi da prestazione dovuta a trattamento assistenziale da erogare in base al patrimonio, un furto di miliardi di contributi versati. Allora Taddei ci rifiamo oppure no? Perché per farla breve noi naturalmente come molti altri ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi, a questo punto che cosa raccontano i cronisti che sono due i documenti ufficiali in cui apparirebbe lo stesso, chi lo chiama refuso, chi lo chiama errore tecnico come Poletti, insomma la stessa frasetta che però fa saltare sulla sedia. Citano quello perché a scoprire quell'errore a dire la verità è stato un dirigente di quel partito, Cedre Damiano, che ha notato, ma no anche questa volta qui sì, perché il tema qual è? Le pensioni di reversibilità sono oggi un istituto di natura previdenziale. Nel documento dove dicono dobbiamo razionalizzare previdenza e assistenza le chiamano di natura assistenziale. Quello sarebbe il refuso che fa scattare tutte le ipotesi che sono state fatte perché chiamarle in natura assistenziale prevede un altro tipo di trattamento. Questa era l'osservazione di Damiano, su questo la risposta è stata, si tratta di un refuso. Sì, o di un errore tecnico. Di che si tratta? Ma guardate, non ci risiamo semplicemente perché non c'eravamo neanche l'altra volta. Stiamo alle parole, poi naturalmente stiamo all'interpretazione. Non c'è nessuna intenzione di ritagliare le pensioni di reversibilità, non c'è nessuna intenzione di tagliare alcuna pensione di questo Paese. Tutto questo non c'è, non sta nemmeno scritto da nessuna parte. L'unica cosa a cui si faceva riferimento quando si discuteva del disegno di legge che istituiva fondi aggiuntivi per la lotta alla povertà, si parlava di fare in modo che questi fondi aggiuntivi venissero erogati tenendo in considerazione della posizione delle persone, non solamente in termini di redditi da lavoro, ma anche in termini di redditi previdenziali o in termini di redditi assistenziali. Già oggi le pensioni di reversibilità, giusto, lo dico perché chi ci ascolta a casa lo sa benissimo, quelli che lo dicevano sanno benissimo. Quando tu ricevi la pensione di reversibilità c'è una componente previdenziale, c'è una componente assistenziale, cioè viene meno il mio compagno, la mia moglie o mio marito, sono da solo, io ricevo una certa pensione di reversibilità, ho dei figli, ricevo un'altra pensione di reversibilità, ovviamente aumentata e tanti più sono i miei figli, tanto maggiore questa pensione. Quindi la pensione di reversibilità è una pensione, che è una componente previdenziale e assistenziale insieme. Dico questo per chiarezza, dico questo per dire che questo è già oggi, ma dico questo perché il naturale complemento di questo è quello da cui sono partito, cioè che il DEF parla di intervento per razionalizzare, considerare, cioè l'intero platea, l'intero gruppo dei redditi che coinvolgono le persone, per evitare il seguente paradosso. Noi potenziamo il reddito di sostegno alla povertà, soldi nuovi, soldi dell'erario che vanno a sostenere, il problema della povertà che noi sappiamo in questa crisi è cresciuto moltissimo per le ragioni che tutti sapete. Bene, vogliamo correre il rischio di dare un sostegno alla povertà a una persona che ha un trattamento previdenziale elevato, perché ne ha titolo? Io penso che sarebbe un errore, penso che sostegno alla povertà debba andare innanzitutto alle famiglie che sono più bisognose. La legge istituisce... Il sostegno non gli arriva però non è che gli togliete. Ma non gli levi nulla, ma scusi facciamo un esempio molto concreto, ci sono pensionati di reversibilità che prendono, giustamente perché ne hanno titolo, titolo che nessuno vuole cancellare o toccare o ridurre, prendono magari un'impressione di reversibilità corposa, duemila, tremila euro, buon per loro, ne hanno diritto, va tutto bene. Se io devo istituire, come faccio? Un reddito di sostegno alla povertà, posso permettere che queste persone siano titolari di sostegno alla povertà perché non hanno nessun reddito da lavoro, ma hanno un reddito previdenziale? È una cosa equa, vi chiedo? E la risposta lo sappiamo tutti qual è, è ovviamente che questo non è equo. Quindi, ora, il testo del DEF, come già ha sottolineato Poletti, ma veniva anche riportato nello stesso articolo di Libero, quindi non fidatevi di me, fidatevi del giornale di Vecchis e dei suoi alti standard. Ma lo stesso Poletti ha detto, guardate, non c'è nessun desiderio, non c'è nessun intervento, non vi fidate di Taddei, non vi fidate di Poletti. Il Presidente del Consiglio vi ha detto non è in programmatone, non c'è nulla. Cosa dovrete che vi dica? Più di così, io non so dire, non posso smentire una cosa che non sta scritta da nessuna parte. Non dobbiamo nasconderci che tra dichiarazioni, dichiarazioni televisive, dichiarazioni pubbliche sul tema previdenziale, dichiarazioni del Presidente dell'Inps, calcoli e ipotesi di intervento fatte dal Presidente dell'Inps, ci sia una confusione evidente per la platea dei pensionati, perché tutte queste ipotesi di cui parliamo sono state fatte. Poi nessuna legge è stata fatta. E conta quello, no? Ma ipotesi sono state fatte. No, ma futuribile, quando il Presidente dell'Inps mi ipotizza che ci sia un riequilibrio all'interno della spesa previdenziale, per cui si preleva qualcuno per finanziare qualcos'altro, l'ha detto il Presidente dell'Inps, non l'ha detto il portiere della casa qui sotto che lo diceva al bar con degli amici. Due aspetti, se mi permette. Per i pensionati qualche cosa vuol dire. Poi pensiamo anche Borghi. No, no, ma il primo aspetto, se mi permette, è che il Presidente dell'Inps non ha parlato di tassazioni dei quei pensionati per portarli all'altro. E poi mettiamo anche il caso che l'abbia fatto. Io le chiedo, alla fine, chi è che governa? Chi è che decide le cose? Perché non sono d'accordo, finché non vedo poi un testo di legge... Ha ragione, ha detto bene. Finché lei non vede un testo di legge che dice tagliamo le persone di reversibilità, stiamo parlando di nulla. Capisce perché non funziona mai niente di quello che fate al governo. Perché io... No, no, ma io lo spiego perché lei dà 80 euro alle persone e quelli non li spendono. Per questo motivo qui, cioè non prendete sotto gamba, non prendete sotto gamba il pasticcio che creano questo tipo di dichiarazioni perennemente altelenate. Stiamo ad esempio che faceva lei degli 80 euro. Gli 80 euro non deve credere a me, al Presidente del Consiglio. No, no, credo ai dati che conosco. Ha ragione, ma se crede ai dati che conosce, deve chiedere almeno alla pletora di ricerche non ultima, quella di Banca Italia, che se c'è una cosa che confermano è che il provvedimento degli 80 euro, tra tutto, è stato uno dei più e di quelli di maggior successo in termini di portare aumento dei consumi e spesa. Proprio perché gli italiani hanno capito l'opposto di quello che ha detto lei, cioè che quello era un provvedimento permanente di restituzione al lavoro. L'effetto sul ciclo economico è stato praticamente nullo. L'Italia ha aumentato la sua distanza nella crescita, la media degli altri paesi europei, questo è un dato di fatto. Ho libero un centro di ricerca superiore o migliore della Banca d'Italia, il centro di ricerca è probabilmente dei migliori economisti italiani, oppure si fa una gran fatica. Eurostato non ha fatto nessuna ricerca su quello, ma censisce il dato del PIL dell'Italia e quello di tutti gli altri paesi. Quando è iniziato questo governo aveva questa distanza qui. Adesso, e perdevano, adesso sono in crescita, ma la distanza è questa. Quindi se c'è qualcosa che non funziona, perché uno non prende il ciclo economico, anzi riesce a peggiorarlo, vuol dire che quello che ha fatto al governo ha peggiorato le condizioni dell'economia. E deve chiedersi perché, cosa ho sbagliato, perché questo sarebbe normale in qualsiasi società. E non accade invece nel governo italiano. Sì, gloria, guardate come ha funzionato. I dati ti dicono il contrario. La tua distanza dalla media UE è più grande di quella in cui hai iniziato. Cioè Letta andava meglio, direi, pur cadendo. Facciamolo rispondere, perché c'è mai un assedio. Davvero, io non so su quale base voi possiate argomentare. I 20 euro state sul PIL, paese per paese. No, no, ma quella base, guardi, è esattamente quella che io lo smentisco qua. Fino al 2014, fino al 2014, questo paese vive la più lunga recessione dal dopoguerra in avanti. Unici trimestre di fila. Come tutti gli altri paesi. No, non come tutti gli altri paesi. Come tutti gli altri paesi. Non è assolutamente vero. Nessun paese ha una recessione di unici trimestre come abbiamo noi. Nessun paese ha una caduta del PIL, tranne la Grecia naturalmente, forte come la nostra. Quindi noi siamo un'eccezione straordinaria. Il 2015, dato in controtendenza rispetto all'Italia dei precedenti due anni e tre trimestri, rispetto a quell'Italia, l'Italia lì fa un punto di svolta. Ora, io mi scusi, ma tra meno e più... No, io dico subito, è falso questo. Dicembre, anzi, gennaio 2014, Italia su 28 paesi dell'Europa era 22esima. Oggi è 25esima. Qual è la metrica? Qual è il punto di riferimento? Ma PIL che? Eurostat che? PIL per capita, PIL reale, PIL crescita. No, 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 no. Variazione del prodotto interno l'olto anno su anno. Quindi mese dello stesso anno precedente. Gennaio 2014 su gennaio 2013. La classifica, l'Italia era 22esima su 28. Quindi ha ragione lei, non è che stava facendo miracoli. Adesso fa peggio. Cioè è 25esima su 28. No, guardi, io sto solo a dire questo. È così. No, guardi, non lo so. Guardi, ripeto, 2014 PIL va giù. Sì, sì. 2015 su, PIL va giù. Ma gli altri vanno molto più su. Ma te che ci superano? No, mi scusi. Diciamo che non avremmo finito qui, immagino. La Croazia ci stava dietro, ci stava davanti. È così. No, ma ci stava davanti in che senso? Mi scusi. Io fino al 2014 sto calando. C'è il 2014 che sono uno dei pochi... La Bulgaria stava dietro, sta davanti. Io sono nel 2014 uno dei pochi paesi che cala. Nel 2015 io riparto, io Italia riparto e questo lei considera un peggioramento. No, no, guardi, meno o più dipende da cosa fanno gli altri. C'è un ciclo. Allora, nel ciclo noi stavamo nella parte base. E va bene. Allora, scusate, scusate, diciamo, usciamo. No, 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 i numeri sono importantissimi e naturalmente poi ognuno li cita a seconda della... No, beh, stiamo parlando. Da giù a su, secondo me è un miglioramento. No, sì, ha ragione. Su un miglioramento per l'altro. Solo che gli altri migliorano meno di... Si vede che vanno più veloci di noi. Gli altri migliorano meno di noi, sono d'accordo con lei. Migliorano più di noi. Ma questo non mi risulta. Per cui Grazia e Bulgaria ci superano e non finiamo dietro di loro. Ma è sicuro che non mi risulta. Borghi, entriamo nel sistema bancario perché c'è grande allarme anche su questo, naturalmente. Già ieri abbiamo visto che cosa è accaduto con questo famoso fondo Atlante. Oggi c'è una lunga intervista del ministro Padoan sulla Sole 24 Ore che insomma ribadisce che non c'è nessun rischio, in particolar modo con Bruxelles, sulle banche per quanto ci riguarda anche sul DEF e per quanto riguarda anche il fondo Atlante. Insomma, è un fondo che ha, secondo lei, le gambe non così, diciamo così, in grado di sostenere tutto quanto oppure che cosa? Oggi arrivano molte rassicurazioni su questo fondo, però insomma c'è anche chi non la pensa così. Ma è l'ennesimo contorcimento per cercare di mettere pezza una cosa sbagliata sin dall'inizio, pericolosa sin dall'inizio, vale a dire la normativa sul bail-in bancario. Noi verremo chiamati, noi cioè vale a dire noi i nostri rappresentanti saranno spero chiamati a rispondere di questo crimine che hanno fatto, vale a dire aderire a una normativa come quella del bail-in bancario sapendo che le regole per gli altri non valgono, mentre invece per noi devono essere applicate alla lettera e sapendo che gli altri si erano già sistemati in modo assolutamente preciso, con soldi pubblici e anche con soldi nostri, perché i 63 miliardi famosi del fondo salva stati alla fine per via Grecia, per via Portogallo, per via Irlanda sono andate poi dopo a ripianare i crediti che gli altri paesi, Francia, Germania e così via avevano nei confronti di questi paesi salvando quindi i loro bad loans. invece noi giulivi non si capisce perché siamo dovuti andare ad aderire a una legge che ora io mi rendo conto che uno si sveglia la mattina in questo momento, io mi immedesimo in qualcuno che è a casa con il succo d'arancia, la brioche e così di questo tipo, arriva uno che gli parla di bail-in bancario e quindi fa fatica. Ma io vorrei che a queste persone ricordare una cosa, il punto di partenza, dov'è che vedete una porcheria? La porcheria la vedete quando c'è un'illogicità totale sull'obiettivo da raggiungere, l'obiettivo è responsabilizzare le banche per evitare che facciano delle cose imprudenti e quindi poi dopo i soldi pubblici debbano essere messi per turare i buchi fatti dalle banche. Ecco io per responsabilizzare le banche cosa vengo fuori? Vengo fuori con un sistema dove se le banche si comportano male pagano quelli che non hanno nessun potere decisionale in quello che hanno fatto le banche, obbligazionisti che non hanno nessun rappresentante in consiglio di amministrazione o seminario, correntisti che figurarsi cosa possono decidere nel destino delle banche. Allora io faccio pagare ai risparmiatori con questa geniale legge un eventuale malaffare della banca, non vista dalla banca centrale perché non è che stiamo parlando della Farmalat o della Fiat che a un certo punto uno decide liberamente di prestargli dei soldi con un'attività speculativa, le banche sono un'attività vigilata e significa che lo Stato demanda una banca centrale per controllare che cosa fanno queste banche e per garantirle anche attraverso il prestito di ultima istanza in modo tale che i risparmiatori non abbiano nessun dubbio, nessun timore nel mettere i soldi o che non debbano ragionare se la banca è sicura, se la banca non è sicura o cose di questo tipo. I risparmiatori devono poter mettere i soldi in obbligazioni, depositi, conti correnti con la massima e totale fiducia in modo tale che, perché non hanno nessun modo di incidere loro nell'operatività della banca, non hanno nessuna responsabilità. Intanto voglio dirvi appunto come poi cambiano le cose che... Un attimo, giusto una cosa, questo fondo viene congegnato in modo da diciamo evitare questo sistema invece nella maniera più semplice, la maniera più semplice è dire questo sistema noi non lo applichiamo, non lo applichiamo, se voi insistete a farcelo applicare applicatevelo da soli, così come fanno gli altri con Schengen, così come fanno gli altri ogni volta che c'è qualcosa che in Europa non gli garba e invece noi andiamo su questo fondo che guarda caso non si sa perché, ogni volta che si tratta di prendere con qualche amicuzzo beni pubblici, beni statali o beni di interesse statale si utilizza sempre questo nome. Quando c'era da prendersi le autostrade si era inventato Atlantia, adesso c'è da prendersi le banche e si inventano Atlante, dico un po' di fantasia. Allora, intanto i titoli che riguardano le banche aprono in grande spolvero perché MPS più 5,45%, Carige 1,36, UBI 3,52, Banco Popolare 3,29, BPM 4,13 e per dirne, citarne un'altra, intesa 2,77, Unicredit il più 3,15%. Questa è l'apertura di questa mattina dei mercati e naturalmente il riferimento ai titoli bancari. Taddei, a che cosa serve questo fondo? A smaltire le sofferenze e? A favorire quello che interessa a tutti, non solo che il risparmio sia sicuro, ma anche e soprattutto che il credito torni all'economia reale. Il problema fondamentale è che le nostre banche sono gravate per la più grande recessione che questo Paese abbia mai scoperto, che abbia mai vissuto, da una montagna di sofferenze che non ha precedenti. Pensare che rigettare la norma sul Belin potrebbe risolvere lo stock di sofferente è un problema proprio di confrontare per Emele, perché sono due aspetti molto diversi evidentemente. Noi abbiamo un problema. Il problema sono che l'economia reale è andata molto male fino al 2014, nel 2015 abbiamo avuto il primo recupero da parecchio tempo, eppure però il male rimane, lascia un'eredità, che sono un ammontare di prestiti, di famiglie, imprese che non sono stati in grado di farlo. Diciamo che il valore delle sofferenze è di poco superiore ai 200 miliardi. Diciamo che le nostre banche, con incontro tendenza rispetto alle banche europee, hanno messo da parte un tasso di copertura di queste sofferenze di circa il 60%, il che vuol dire, immaginatevi che per ogni 100 euro di sofferenze, cioè di prestiti che non vengono ripagati alle banche, le banche accantonate per ogni 100 euro 60 euro, dicendo, vabbè, 60 euro gli metto lì. Rimangono 40 euro, 40 euro di perita, che sono il valore delle sofferenze. 40 euro su 100, moltiplicati per 200 miliardi, vuol dire che ci sono 80 miliardi di sofferenze che gravano sul sistema bancario. Guardate, le banche sono sì vigilate, ma sono private. Cioè, se un'impresa privata perde i soldi, dipende anche da come è stata gestita. Ma se quell'impresa privata è quella responsabile di dare fiato alla ripresa, di sostenere gli investimenti, di sostenere le famiglie, beh, allora io mi posso, mi devo occupare di questo tema. Lo posso fare in due modi. Lo posso fare dicendo, signori contribuenti di questo paese, lavoratori di questo paese, usiamo i vostri soldi, prendiamo i vostri soldi, 80 miliardi di vostri soldi, 40 miliardi di vostri soldi e gli diamo alle banche per ripianare quelli che sono le conseguenze. Il governo ha deciso di fare una cosa diversa. Ha deciso di dire, no, no, noi possiamo fare questo intervento utilizzando i soldi delle banche stesse. Cioè, facendo in modo, nel caso dell'intervento sulle quattro banche, quello del 22 novembre scorso, utilizzare i soldi delle banche. I soldi delle banche sono i soldi dei risparmiatori. No, attenzione, i soldi delle banche sono i soldi degli azionisti. Lo racconti agli obbligazionisti subordinati di Etruria, Banca e Marca? Lo racconti a tutti quelli che avrebbero potuto. Che hanno usato i soldi degli azionisti. Lo racconti a tutti gli altri obbligazionisti che sono stati salvati, quelli senior, tutti i correntisti che sono stati salvati, tutti quelli che avevano un prestito fio con quelle banche. No, no, quelli li avete che non c'entrava niente col Pellin. Avete promesso di rimborsarli entro gennaio. Adesso arriviamo anche al rimborso. No, no, poi arriviamo al rimborso perché è importante. Certo, naturalmente. Quelle quattro banche stavano morendo. Stavano morendo, il governo interviene per salvare fidi, prestiti di quelle banche, posti di lavoro in quelle banche e in ultima istanza, la possibilità di almeno preservare alcuni obbligazionisti e correntisti. Cosa che senza interviene del governo non sarebbe avvenuta. Per quelle quattro banche andavano a fondo. Questo è il primo punto. Poi c'è il tema sistemico. Rimangono 80 miliardi di sofferenze che non ha a che fare con quelle quattro banche. Per il PIL vale il valore assoluto mentre c'è con le banche relativi. Borghi, Borghi, lo ascoltate in religioso silenzio, vi faccio la stessa cortesia. 80 miliardi abbiamo lì di sofferenze che sono da recuperare. Se io non correggo il problema delle sofferenze non riporto il credito all'economia reale e questo paese non sostengo la ripresa. Allora noi cosa facciamo? Diciamo, le banche, il sistema bancario di questo paese può fare un'operazione industriale, quella del fondo Atlante, che usa solo denari privati, non soldi dei contribuenti, non soldi dei lavoratori, non soldi dei pensionati, denari privati del sistema bancario per fare un'operazione industriale di ristrutturazione di quello che è un problema industriale del settore bancario. Le banche con troppe sofferenze non fanno credito all'economia reale, alle famiglie, alle imprese. Io, policy maker, persone che si occupano di politica pubblica, ho quell'obiettivo, fare in modo che le banche, il sistema bancario, sostenga la ripresa. Ci sono solamente due possibilità. O diciamo ai cittadini, utilizziamo i vostri soldi come contribuenti, cosa che noi non facciamo, oppure diciamo al sistema bancario, risolvete il problema e noi vi diamo gli strumenti per risolverlo meglio. Questo fondo cosa fa? Dice che le sofferenze bancarie vengono messe sul mercato, una parte di queste sofferenze vengono messe sul mercato in maniera rischiosa, le compra al fondo, una parte, quelle cosiddette dei detranche senior, viene messa sul mercato garantita dalla garanzia pubblica, approvata attraverso la procedura con Bruxelles. A questo punto hai un insieme, un intervento a tutto tondo che ha la possibilità per la prima volta di mettere in sicurezza il sistema delle sofferenze bancarie. Per fare che cosa? Per fare in modo che le banche tornino ad essere un lavoro noioso, che dà presti alle famiglie, che dà presti alle imprese e che smettiamo di parlarne. No invece no, ne parliamo dopo la pubblicità, dopo la pubblicità ne torniamo. No ma scusi, se vuoi usare i soldi dei lavoratori liberi ci deve essere qualcuno che fai. Allora intanto le agenzie ci dicono stamattina secondo alcune fonti che il fondo Atlante punta a raccogliere circa 3 miliardi dalle adesioni dei principali istituti di credito con intesa San Paolo Unicredit in prima linea e poi naturalmente ci sono altri e quanto riferiscono fonti qualificate secondo cui il primo intervento sarà sull'aumento di Popolare di Vicenza che scade tra poco il 29 di aprile e oltre alle banche è previsto l'impegno di fondazioni, assicurazioni e altri investitori. Possiamo giusto veramente sottolineare questo perché secondo me a casa ci guardano un po' a libiti. Il fondo... Soprattutto non entrano più in banca. No, esatto, questo fondo, il fondo Atlante è interamente finanziato come lei ha appena letto anche dall'ultimissima agenzia da imprese private del settore bancario e assicurativo che sono i cosiddetti investitori istituzionali. Ripeto, non potrebbe essere altrimenti perché esistono dei vincoli comunitari per cui non poteva metterci del capitale pur avendoci provato perché comunque una discussione sulla cassa depositi e prestiti è stata fatta. Ma chiediamoci se è giusto per una volta oltre che se è dovuto. Era giusto veramente andare dai cittadini italiani e dirgli prendiamo i vostri soldi e salviamo le cattive gestione delle banche. Perché quelli che hanno salvato le banche Etruria o alcuni dei correntisti e obbligazionisti sono gli altri. No, correntisti tutti. No, obbligazionisti è una differenza non indifferente. Gli orientisti salvati tutti, se no c'è l'initamento del governo. Si sono salvati da quelli che ci hanno rimesso, uno di questi si è tolto la vita, se non fate in fretta a fare quello che avete promesso di fare, le assicuro che il rischio che questo si ripeta c'è perché c'è gente in condizioni disperate, frequentandoli sono in condizioni disperate. Forse cominciare a valutare che una piccola quota, piuttosto di stare a parlarne, cioè diciamo fino a 30.000 euro, piuttosto che 50.000 euro partite con i rimborsi senza troppi arbitrati e il resto va in arbitrato perché c'è urgenza sulle vite delle persone, quella è stata una scelta fatta dal governo e dalla Banca d'Italia. Ma aspetti Borghi, cosa si poteva fare di diverso? Becchis, aspetti un attimo arrivo. Quello che ci siamo ripetuti più volte, purtroppo ormai, innanzitutto sarebbe bene farla la famosa commissione d'inchiesta perché qui vedremo poi di chi sono le responsabilità di quel che è accaduto. Certamente dagli elementi colti nell'ultimo te la responsabilità della Banca d'Italia non è secondaria in quel che è avvenuto, forse superiore, anzi sicuramente superiore a quella del governo che poi è stato messo con le spalle al muro sulla soluzione tecnica. La Banca d'Italia ha come responsabilità, perché aveva il commissario di una di queste banche dentro, di aver venduto a un prezzo bassissimo proprio pochi giorni prima di questa operazione dei crediti in sofferenza al 14,6%, come sappiamo dalla comunicazione, anzi appure subito facendo il primo della classe è andato a dirlo al commissario UE anticoncorrenza dicendo guardate che l'operazione di mercato che abbiamo fatto è questa, così quelli hanno detto beh quello è il prezzo di mercato e non era vero perché non esisteva un prezzo di mercato così in tutte le altre operazioni, è un prezzo con cui chi ha comprato ha fatto un affarone, che il FOSPA guarda caso è un istituto dove ci sono, c'è una specie di piccolo salottino della nuova finanza, dei nuovi poteri finanziari che ci sono in Italia, ha fatto l'affarone, quell'affarone l'hanno pagato gli obbligazionisti subordinati perché quella svalutazione è stata presa a riferimento per fare le operazioni del decreto del 22 novembre su richiesta dalla Banca d'Italia, quindi in questo il governo non ha grandissime responsabilità, ha responsabilità perché poi dice mi rendo conto della situazione, provvederò, sono passati un po' di mesi, bisogna farlo quello che uno, questa è un'ipotesi, sentiamo anche Borghi e poi arriviamo all'altra ipotesi, l'altra ipotesi, c'è un'altra ipotesi alternativa che almeno non possiamo cancellare, è cioè che quelle banche erano in una condizione così disperata e quando sei disperato fai delle cose terribili, vendi le tue sofferenze al prezzo che trovi, all'unico acquirente che trovi e questo però conferma che la condizione di quelle banche aveva la necessità, non la possibilità, aveva bisogno di un intervento che fosse urgente ed è il motivo per cui il governo è intervenuto, ripeto, con i soldi delle banche e non con i soldi dei contribuenti italiani, è un'interpretazione alternativa. Diciamo, io sto discutendo le caratteristiche tecniche di quell'operazione, le faccio presente che una di queste banche aveva addirittura aperto un aumento di capitale all'unico. Sentiamo anche Borghi che ha in collegamento. E c'era, no, lo perdono per voi, scolta mia. Ecco, quello che ha detto Bechis è sicuramente giusto, il punto delle sofferenze, non è che si sono create ieri le sofferenze, il fatto sia che sia malagestione, sia che sia invece crisi economica e così via, erano tutte sotto l'attenta visione di Banca d'Italia, il fatto che, cioè non è che sono arrivati a un certo punto e hanno detto, oh, incredibile, dalla mattina alla sera si sono create le sofferenze. Cioè una banca non va in crisi dalla mattina alla sera, se non perché c'è lo tsunami o perché c'è un'epidemia o cose di questo tipo. Banca d'Italia vigila giornalmente la situazione delle banche. Non si può far passare l'idea che a un certo punto si sono svegliati e hanno trovato una banca in crisi. Non è così, cioè hanno fatto una marea di ispezioni Banca d'Italia e sono loro che hanno la possibilità di vedere come sono i conti o no. E queste banche poi erano commissariate, quindi significa che c'era una persona di Banca d'Italia lì da un po' di tempo che oltretutto dispensava tranquillità, che diceva non si preoccupi, finisce tutto fra breve e così via. Ora, che si faccia pagare agli obbligazionisti e che si pensi in futuro di far pagare ai correntisti è un abominio. Mi permetto di dare un'idea mia per i rimborsi, perché cercando di essere costruttivo, per evitare di dire sempre no, non va bene, non va bene. Il sistema per rimborsare in modo corretto gli obbligazionisti, invece evitando di dare soldi, regalare soldi a chi invece comprava effettivamente delle obbligazioni a basso prezzo per speculare, è quello di ridare il prezzo di acquisto. Quindi se una famiglia aveva comprato i titoli a 100, quindi quando i tassi erano bassissimi e quindi quando non c'era nessun tipo di sospetto che potesse essere stata fatta per speculazione, riceve 100. Se qualcuno aveva comprato queste obbligazioni quando valevano 40 e quindi con già in quel momento la consapevolezza che si trattava di una cosa potenzialmente rischiosa, si ridà 40. Nessuno guadagna, nessuno prende dei soldi indebitamente da parte dei rimborsi e si risparmia perché invece di dare l'ammontare complessivo di tutte le obbligazioni, si dà un quantitativo inferiore di denaro perché così si evita di rimborsare 100 a tutti, anche a chi magari effettivamente quei pochi che erano davvero degli speculatori. È così semplice, a quel punto non ci si pensa più. Invece per quello che riguarda le azioni, perché non bisogna dimenticare anche quello, se le banche davano le azioni ai propri clienti facendogli credere che era una specie di prestito, una specie di pronti contro termine, perché per esempio per la Vicenza oppure per Veneto Banca succedeva così, cioè il cliente veniva ingannato facendogli credere che le azioni della banca sarebbero state ricomprate poi esattamente al prezzo a cui loro le avevano acquistate oppure a un prezzo più alto, perché non erano quotate. Le azioni delle Truria sì magari, ma le azioni delle altre banche non erano quotate. Ecco, in questo caso è una truffa, ma il fatto che Banca d'Italia fosse pienamente consapevole di questa truffa comporta che la colpa è tutta di Banca d'Italia. Ma in tutta questa cosa, pagano i correntisti, pagano gli obbligazionisti, pagano i contribuenti, io non ho mai sentito una volta uno che dice paghi Banca d'Italia o paghi BCE, perché Banca d'Italia e la BCE sono la stessa cosa. È chiarissimo Borghi, oggi il direttore generale di Banca d'Italia su Repubblica, a proposito appunto del Fondo Atlante, tra l'altro che dice le regole sul Beilina hanno reso la finanza europea più stabile e ammette da noi errori di comunicazione, però sostiene appunto che non c'è nessun pericolo per il sistema, che è un sistema che darà il Fondo Garanzia e Sicurezza. Però io non vorrei che fossimo ancora ai suggerimenti su come rimborsare chi ha perso i soldi, ecco perché vorrebbe dire che siamo ancora molto lontani. Quando cominciate a rimborsare chi ha perso i propri risparmi in quelle banche? Innanzitutto un elemento di chiarezza, se c'è una truffa, qualunque risparmiatore, qualunque investitore deve pensare che quella, quindi un raggiro, qualcosa del tipo di un'operazione di scritta tipo quella di Borghi, ce ne sono altre, bisogna pensare che su quello c'è già la piena tutela del nostro ordinamento. Nel frattempo però non c'ha più i soldi per andare avanti e mangiare, campare, quando gli arrivano questi soldi. Capisco perfettamente, ma attenzione, c'è già la piena tutela, cioè tu puoi già andare, vai, fai causa e hai diritto ad avere tutto quello che vuoi. Il governo cosa fa? Mettendo quei... Beh insomma, oh ragazzi, ci sono queste tutele, ci sono. Ci sono degli strumenti. Noi che dobbiamo introdurre. Cosa fa il governo mettendo dei soldi aggiuntivi? Dice guardate, nel caso in cui per accelerare i tempi di rimborso e non andare per la giustizia ordinaria, possiamo utilizzare un fondo e delle procedure semplificate che vadano a fare. Ma capite, sono procedure che, semplificate, cioè inderoga agli strumenti ordinari. È un intervento assolutamente nuovo, straordinario, molto difficile da fare. Ma quando? In che tempi? Ma guarda, come sapete, il vice ministro Enrico Morando proprio ieri ha dichiarato che è una cosa che dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni. Voglio comunque sconfermare che chiunque è stato struffato avrà tutto, non solo. Il fondo aggiuntivo dà risorse, risorse delle banche, che gireranno a quegli obbligazionisti subordinati, i quali non sono stati struffati, non si sono semplicemente incautamente affidati. Cioè, una persona che comprava un'obbligazione, un'obbligazione subordinata, un'obbligazione che ha una certa componente di rischio, ha subito una perita, non avrebbe diritto, secondo l'ordinamento, a nessun rimborso e ce l'ha in virtù dell'ordinamento del governo. Però posso dire una cosa? No, secondo l'ordinamento che era esistente in quel momento non è vero. Però io insisto su una cosa, se non c'è truffa non è diritto a nulla. Insisto su una cosa, eravamo a novembre, se non sbaglio, 22 di novembre, sono passati sei mesi, è possibile che ancora non si possa dire, oltre che dire tra qualche giorno, tra qualche settimana, ma dire... Guardi, è un intervento molto difficile, perché capite, è in deroga alle regole ordinarie. Ma questo vuol dire non rispondere ai risparmiatori che oggi aspettavano una risposta. No, 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 io sto dicendo che la risposta ai risparmiatori arriverà e sarà una risposta che arriverà nei prossimi giorni. Esattamente, ha detto bene, agli obbligazionisti la risposta arriverà e arriverà nei prossimi giorni. Ancora una volta, non vale la mia parola, vale quella del Vice Ministro dell'Economia. E' che l'han già detto più volte con delle date che erano false. Beh, insomma, mettiamola così. 31 marzo era il termine l'ultimo. Vedrà che questa sarà l'ultima volta. Aspettiamo questa settimana, facciamo così, perché finisce venerdì, poi Taddei però ne riparliamo con la promessa che ci rivediamo nei prossimi giorni. Grazie, grazie a Borghi, grazie a Bekis, grazie a Taddei. Adesso come sempre c'è Andrea Pancani con Coffee Break, noi ci rivediamo domani mattina. Arrivederci.